Il nostro pensiero è portare il valore della resistenza in un luogo di sapere perché crediamo che l'educazione sia la base anche per portare avanti questo valore che ha fatto la storia e che letteralmente ci porta ad essere qua in questo momento e crediamo inoltre che, oltre a ricordare, bisogna attuare poi quello che si porta avanti in cui tutti noi crediamo, che è appunto la resistenza, anche attraverso appunto oltre che momenti di cerimonia ma proprio attraverso discussione, attraverso dei momenti nei luoghi del sapere e degli atteggiamenti anche che portano valore a quello che la storia ci ha insegnato ma oltre che ci ha insegnato che deve continuare a creare partecipazione perché questa, io credo e crediamo noi almeno, che sia fondamentale cioè ricordare il valore della resistenza soprattutto per continuare a partecipare e a essere cittadini attivi e studenti e studentesse attive Ecco, infatti, esserci e partecipare com'è il vostro modo di partecipare? Beh, il nostro modo di partecipare in realtà è esserci, discutere, farci sentire non avere, diciamo, limite nel confronto nel senso che il confronto è una delle cose più importanti e più belle anche perché proprio fa crescere anche poi determinati pensieri, determinati ideali e quindi il nostro partecipare varia a seconda delle situazioni ma è anche e soprattutto poi metterci in primo piano anche a servizio della comunità sia studentesca ma anche quella cittadina quindi può essere che una delle parole più adatte sia proprio il servizio in senso lato